In questa regione esiste un'assurda legge elettorale che prevede che chi, come me, fa il sindaco in un comune superiore a 5.000 abitanti debba dimettersi se intende candidarsi in regione e quale consigliere o presidente. Sia Forza Italia che la coalizione di centrodestra oggi possono contare su un novelo di candidati tutti di estrema qualità. Quindi questo è un segno intanto di buono stato di salute del centrodestra che mi fa anche pensare che siamo pronti per poter riconquistare la regione. Allo stesso tempo dico anche che è ovvio che se io non fossi scelto non sarei disponibile a fare il consiglio regionale. La mia candidatura è stata offerta perché potessi correre quale presidente. Sono certo di poterlo fare con l'esperienza che ho accumulato in questi anni in comune avendo quotidianamente affrontato i problemi delle persone e sapendo che alle persone vanno date risposte e non fatte promesse. Allo stesso tempo dico che la carica di presidente io la assumerei ben volentieri sarei onorato di farlo per tutto il centrodestra unito ma non sono disponibile a candidarmi in consiglio regionale perché a quel punto non è il mio un carierismo politico è una messa a disposizione di un servizio nuovo per l'intera comunità regionale o per così non fosse continuerei a fare il sindaco di Chieti. In questi mesi ho studiato insieme ad alcuni professionisti e alcuni rappresentanti delle istituzioni quelli che sono i problemi più forti che vengono avvertiti in Abruzzo e su quelli io credo noi dovremo costruire il programma di governo del futuro dell'Abruzzo e dell'Abruzzo del futuro. Innanzitutto un welfare regionale che contenga politiche per l'occupazione che contenga le politiche per il sostegno alle imprese abruzzesi che dia la possibilità all'Abruzzo di non essere una terra di addi ma una terra di nuovi investimenti. C'è da rivedere tutta la questione delle politiche sanitarie. Va tenuto a bada il bilancio della sanità abruzzese ma allo stesso tempo vanno garantiti servizi soprattutto in taluni territori. Poi c'è il tema dell'Abruzzo, quello che tutti conoscono e tutti vorremmo più valorizzato è l'Abruzzo dei parchi, delle montagne, della costa. Il riequilibrio tra le aree interne e soprattutto la costa è uno dei temi che dovrà appartenere al futuro governo regionale. C'è il tema delle due città colpite dal terremoto quello drammatico dell'Aquila e quello non meno triste e drammatico del Terramano.